Per me non era facilissimo entrare, dopo un paio di mesi che non ho giocato eppure sono entrato all'improvviso perché mio compagno si è fatto male eppure sono arrivato due giorni prima della partita. Non era facile, però siamo riusciti a ottenere questo pareggio su un campo dove non si vince spesso, quindi possiamo essere abbastanza contenti per quanto riguarda il risultato. Sono praticamente un soldato, quindi mi sono mantenuto benissimo a casa mia, però naturalmente allenare con la squadra è diverso, quindi non è che al campo non corri a vuoto, devi seguire avversari, devi capire i movimenti tattici. Ho una famiglia abbastanza grande, la mia figlia più grande inizia ad andare a scuola, quindi non era facile decidere pure il destino della mia famiglia perché comunque ho tre bambini e non è facile spostare una famiglia così grande in Italia, quindi ho detto aspettiamo ancora un po'. Ho rifiutato alcune offerte anche buone, però non ero convinto di andare, quindi per questo motivo anche dopo la stagione dove ho fatto quasi 40 partite sono rimasto a casa, però non ero un pessimista, sono una persona abbastanza allegra, quindi ero ottimista che prima o poi una soluzione la troviamo. Rispetto ai italiani ho una mentalità un po' diversa, sono molto lineare, molto deciso, molto professionista, quindi si può riportare anche un po' di questi aspetti qui. Il paese mio abito proprio sotto la montagna e quindi mi piace molto vedere pure la neve, quindi mi sento un po' come a casa.